Oggi alla conferenza Stato-Regioni si è parlato di autonomia differenziata, però come provincia autonoma e entrante di Bolzano abbiamo voluto porre l'attenzione anche su qualche caso in cui le prerogative dell'autonomia speciale, sia da parte degli uffici statali che da parte anche delle varie sentenze che ci sono state della Corte Costituzionale, non tengono conto delle competenze primarie in alcune materie dei nostri territori. Quindi abbiamo chiesto che in una revisione generale della materia dell'autogoverno a livello nazionale vengano prese in considerazione anche le tutele dovute e doverose delle competenze delle nostre autonomie.